Il 3 maggio a Palazzo Lascaris il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto e premiato i componenti della squadra nazionale di Karatedo, Ferdinando Gerbaudo, campione del mondo Meibu-Kan e Igor Gerbaudo, rappresentante della Meibu-Kan Italia. Ferdinando Gerbaudo ha vinto il campionato mondiale di Karatedo, svoltosi a inizio marzo in Giappone a Okinawa in onore del Grand Master Meitoku Yagi per il centenario della sua nascita.